E poi uno non si deve incazzare con la stampa specializzata Leggete qua che titolo Ok, se il titolo vi sembra clickbait, non è clickbait È proprio quello che avete letto Un articolo maschilista, sestista Che non dovrebbe nemmeno essere pubblicato da un sito Che si reputi Professionale Ma che paragone del cavolo va a fare? Dare a delle donne succinte delle porno star E lamentarsi perché le porno star non stanno con le tette di fuori Ma che siamo? Nel peggior bar di Bari dopo la quinta birra? Oh, riprenditi ragazzo che hai scritto sto articolo Le twitcher non sono delle troie o delle porno star Solo perché si vestono con abiti succinti E sono ammiccanti Sono solo ammiccanti che lo fanno per intrattenere Per marketing Per veicolare orde di maschetti ingrifati verso il loro contenuto Basta Ogni donna è libera di fare quello che vuole col proprio corpo Ok, più duri e puri romperanno le scatole E quindi sono buone Riescono a lucrare sopra i maschietti? Ben venga Buon per loro Se fossi una figa lo farei forse anch'io Anche perché spesso e volentieri queste videogiocatrici Tra virgolette Effettivamente usano il videogioco come scusa Ma non c'è niente di male Perché loro effettivamente sono professionalmente delle modelle Porno star Attrici Disegnatrici Musiciste Però Hanno avuto l'opportunità Di veicolare Il loro lavoro Attraverso questa piattaforma Che c'è di male? Sinceramente Quando ero ragazzino A dire il vero Voglio essere sincero Non mi sono mai E poi mai lamentato Di Maria Monsè Che stava a presentarmi i cartoni mati Anzi Mi guardavo le fettacchie di cartoni mati Perché volevo vedere le tettone di Maria Monsè Non ci vedo niente di male In tutto ciò C'è sempre stato C'è sempre ci sarà E ben venga Mentre vorrei parlare dell'obiezione delle porno star Come avete letto dal titolo Dice Strano Le porno star sono così serie Quando stanno su Twitch Tutte stanno con le tette di fuori E loro che sono porno star Potrebbero stare Non ci stanno Uè Pezzo di un cogl... Essere porno star È un lavoro come un altro Sono delle attrici Attrici Porno Recitano delle scene di sesso Re C T No Quindi non è che nel privato Anche nel privato Vogliono stare sempre a trombare O con le tette all'aria Forse preferiscono giocare ai videogiochi In quel modo Chi sei tu per giudicare a loro? Perché sono delle porno star Hanno lo stigma Che devono stare a fare le troie 24 ore su 24 E dai E poi può essere semplicemente Anche il fatto che Proprio perché sono porno star Hanno da evitare situazioni spiacevoli I maschi sbavone tra loro Basta una minga cosa Per far impazzire la chat Quindi fanno Si pongono in quella maniera Potrebbe essere anche per evitare Quelle situazioni spiacevoli Anche perché Sono su Twitch Vogliono portare un altro tipo di contenuto Magari che loro che giocano ai videogiochi O nel caso di Valentina Nappi Per esempio ogni tanto parla di politica Per questo si dovevano sentire in obbligo A spogliarsi perché sono delle porno star No Così come per le Twitcher di prima Che sono libere di stare con le tette all'aria Per invogliare i ragazzi Verso il loro contenuto Le porno star Sono libere di stare su Twitch Tutte accollate Come delle brave ragazze Questa analisi Non ha né capo né coda Come ho detto prima Chi è che ha provato un articolo del genere? Ce ne andiamo conto A che punto sta la stampa videoludica In Italia? Quando ero ragazzino io Sia nei videogiochi Che nel giornalismo Le persone erano un po' acculturate Ma giusto un po' Sai non erano i tizi del bar Che scrivevano articoli Di questa analisi Di questo signor nessuno Ma a noi veramente ci frega qualcosa Che Valentina Nappi e Sasha Gray Non mostrano le poppe E mentre le altre ragazze le mostrano Che ci frega a noi? Con tante cose che si potevano analizzare Questo che ha scritto l'articolo E' andata ad analizzare La chiacchiera da bar più becera Ci ha fatto anche l'analisi Quasi reale sul confronto Scritta bene Come se stava analizzando Sto cazzo di cose importante Questo confronto E' senza né capo né coda Io invece sai Avrei voluto che Avesse trovato altre chiavi di lettura E che ne so Poteva analizzare questa cosa Che addirittura porno star Anche qualsiasi personaggio pubblico Utilizza il videogioco per potersi vendere Per poter diventare famoso Il videogioco è diventato uno strumento preponderante Più di un film Più di un cartone animato Per i ragazzini Oppure sai l'analisi più bella Che forse avrei fatto io Mettendo questo titolo clickbait Uguale Però sai l'articolo L'avrei posto dicendo Una roba del genere Tipo Finalmente Nel 2002X Il videogioco ormai E' un'arte universale Che non conosce distinzioni di sesso Rassa Alla roba bolognese ho detto Razza Classe sociale e religione Ed è un fenomeno globale finalmente Accettato senza remore da tutti Indistintamente All'orientamento sessuale Religioso Classe sociale E razza E sesso E' il nuovo strumento di aggregazione globale Al pari dei vecchi media Come cinema Musica E locali Vedi quando era più figo un'analisi del genere? Cioè quasi quasi la faccio io ora Questa analisi Cioè Invece di fare quella chiacchiera da bar Quanti spunti potevate trovare? Ma quanti? Invece si è fermato alla chiacchiera Pesquale Della cosa triste Che questo sito A prima occhiata Sembra anche un sito serio Ignoranti e ciarlatani Dovrebbero essere etichettati come tali E non scrivere su questi siti Che sembrano quasi professionali Troppa disinformazione E troppo ragionamento da medioevo Ovunque Non dovrebbe essere tollerata una roba del genere Non dovrebbe essere